Alimentare la passione per il mare, condividere esperienze, sensazioni e punti di vista. Al porto turistico di Pescara torna Sottocosta, appuntamento dedicato alla nautica, che quest'anno vedrà tra gli stand nuovi ingressi e più aree tematiche, velisti, natanti, personaggi, innovazione tecnologica, il tutto animato da intrattenimento live, sfilate di moda e DJ set. Quest'anno c'è questa partnership stretta con, non è un caso che sia qui il comandante Moretti, con la capitaneria di Porto, c'è questo discorso con lo Yotmed Festival di Gaeta, che è sponsorizzato dalla Camera di Commercio di Latina, il Premio Design della Nautica, un importantissimo convegno con 100 giornalisti accreditati, per cui siamo soddisfatti del lavoro fatto, siamo certi che dal 2 al 5 giugno in molti verranno, siamo ambiziosi, puntiamo a fare di questo Sottocosta un punto di riferimento soprattutto dell'Adriatico. Il Salone della Nautica sarà un momento anche di riflessione sui temi più caldi del momento. Ad intervenire sarà la Capitaneria di Porto, che affronterà il tema dell'immigrazione in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo. Ringrazio la Camera di Commercio per aver inserito nell'ambito di una manifestazione rivolta a chi va in mare per divertirsi in buona sostanza, quindi una manifestazione dedicata al di Porto, aver ritagliato uno spazio dove si parla di questo fenomeno che tocca appunto il nostro essere uomini e anche nel nostro caso il nostro essere professionisti, perché siamo impegnati in prima linea quotidianamente nel cercare di salvare le vite umane di chi affronta i pericoli di una navigazione su barche inadeguate.